Ciao a tutti i nesini, siamo qui in un nuovo video, guardate cosa ho qua da aprire con voi. Allora, ho un pacchettino che mi è arrivato di alcune cosine che ho acquistato e soprattutto mi è arrivata finalmente la LOL Surprise Hair Goals, quelle con i capelli, la nuova serie. Quindi dovremmo finalmente vedere come sono queste LOL con i capelli, se dal vivo convincono oppure no, a meno che non trovassi una rara che non ha i capelli veri, le altre appunto ce l'hanno, quindi andiamo subito a vedere. Ma prima di passare alle Hair Goals apriamo questo pacchettino super carino con le note musicali. Allora, andiamo a vedere, l'ho preso sul mio gruppo Blindbags e Toys Italia su Facebook, quindi andate anche lì se volete. Ci sono tre cosine all'interno, più vedo un bigliettino troppo carino con rilakkuma e con rilakkuma super belli e una creazione in resina adorabile con Hunter, che è uno dei miei pokemon preferiti, quindi sono super contenta, mi piace un sacco. Grazie, grazie, grazie per questo omaggino. E allora ho acquistato questo mega astuccio in plastica dei Little Twin Stars con l'unicorno tutto pastelloso, tema marino, e dietro è trasparente. E all'interno ci sono le altre cose. Allora abbiamo un borsellino, sempre dei Little Twin Stars, stessa fantasia, ma è un portamonete o portacarte, non so, patente, cose così, della Sanrio. Molto carino, questo mi è utile appunto quando vado in giro, che magari non voglio portare borsellini troppo grandi. E poi l'ultima cosina è questo e è super carino, è un righello di My Melody trasparente sul rosa con tutti i suoi amici. Veramente troppo carino con appunto tutti i fiocchi eccetera, troppo troppo bello. E ora so che sicuramente starete fremendo, quindi andiamo a vedere la nostra Hair Goals. Eccola qua. Allora innanzitutto la confezione è cambiata perché assomiglierà a una bomboletta spray. E quindi abbiamo qui la nostra, una delle lol insomma, che è Young o Yin, dopo lo andiamo a leggere sulla checklist. E poi qua dietro abbiamo Miss Jive, che è una di quelle che si possono trovare con i capelli ricci. All'interno troveremo questo filtro per le foto a forma di specchio, il solito indizio. Adesivi che potete usare sia sui capelli delle lol, anche se non attaccano tantissimo, sia li potete mettere da altre parti. Poi qui abbiamo una specie di vaschetta o sì, ci potete appunto immergere le lol. Dei bigodini che potete usare anche per voi, un pettinino, accessori eccetera. Poi il costume in silicone, vestiti e la lol. E niente, questo è tutto, ve la faccio vedere. Makeover series, l'hanno chiamata. Qua c'è l'altra zip a forma di phon per capelli. Quindi è tutto a tema parrucchiere, capelli eccetera. Anche gli scacchi qua dietro. E quindi direi di andare ad aprire. Allora, questo qua l'ho acquistato per tipo 20 euro in totale mi sembra, se non sbaglio, 20 euro in totale su ebay. Mi sembra, non su amazon ma mi pare su ebay. Alla fine l'avevo preso, però l'ho preso parecchio tempo fa quindi non mi ricordo. Comunque tra poco arriveranno anche in Italia, quindi se mai aspettate nei negozi. Se costano troppo prendetele su internet. Andiamo ad aprire perché sono molto curiosa di vedere. Ecco, già non riesco ad aprirla. Perfetto, come al solito non mi smentisco mai. Aiuto. Aspettate, proviamo da sotto. No. Va bene, rompiamo tutta la carta. Io tanto non posso farcela se non rompo tutto, quindi andiamo ad aprire. Allora, vediamo. Qua c'è del dorato, ma non so se vuol dire che abbiamo trovato una rara, ma non saprei onestamente. Non so bene quali sono i colori delle bombolette spray. È durissima. Ce la sto facendo. Oh, ce l'ho fatta. Ok. Eccola qua. Allora, qua è tutta dorata e qui è, non so se è rosa o dorato, si possa definire. Comunque, una di quelle che troviamo qua è lei. Allora, lei è carina, almeno dalla immagine. Però dal vivo non so se mi convince più di tanto. La mia preferita in assoluto sarebbe la streghetta. Witchy Babe. Quindi spero di trovare lei, ma non lo so. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora abbiamo... Ok, questo indizio mi sembra che fosse di Witchy Baby e di altre due, se non sbaglio. Mi piace molto anche la strega cattiva di... però ancora i nomi me li devo imparare, quindi scusatemi. Allora, qua abbiamo il nostro specchio. Eccolo qua. Molto, molto bello. E qua abbiamo gli sticker a fermaglio. Allora, vi è anche questo. Qua c'è la solita cartina, diciamo. Andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere com'è questa nuova confezione. Allora, vediamo... Ok, qua si apre così. Dentro c'è già una cosa che credo sia per appendere la nostra... Il nostro spray. Credo vada messo qua sopra. E quindi, vabbè, andiamo ad aprirlo. Comunque è fatto così. Ok. Vediamo. Allora. Abbiamo, sì, la nostra... Non so come definire. Ah, è una clip per capelli. Che carina. Il dettaglio mi piace. Tutto in tema capelli. Vedete? È una mollettina per capelli. Poi abbiamo delle... Il peristallo. Per metterlo qua sopra, credo. Qui. Oh mio Dio, ma vedo dei... Ma... Vedo dei glitter. Quindi questa è una rara o ultra rara, forse. Andiamo a vedere, eh. Allora, qua abbiamo appunto il nostro spray per capelli. E questo si può togliere, forse? Sì, credo si possa togliere. Adesso non lo tolgo. Comunque è una specie di divanetto. E qua per metterci la bibita. Poi, un momento, un momento. Allora, cioè, io tutte le prime che trovo sono sempre ultra rare o rare. Non lo so perché. Vabbè. Comunque, apriamolo. Allora, lo metto da parte perché sennò già si vede chi può essere. Allora, vediamo un attimo, eh. Dunque, qua abbiamo un posterino. E queste sono tutte quelle che si possono trovare. Allora, qua abbiamo le rare che sono loro due. Glamour Queen e Shimon Queen. Poi abbiamo Young QT. Her Majesty. Snow Bunny, che pure era carina. Poi abbiamo Buddy, che erano altre quelle che volevo trovare. Skater Girl. Miss Jive. Poi abbiamo Daring Diva e Oops Baby. Poi Splatters e Witchy Baby. Witchy Baby sarebbe la mia preferita, ma a questo punto non credo di averla trovata. Quindi andiamo a vedere quale abbiamo trovato noi. Quindi, qua abbiamo all'interno i due bigotini. Eccoli qua. Allora, vediamo come si aprono. Così. Ah, e qua c'è una collana. Che è bianca di perle. Questi ovviamente li potete usare anche per voi. Per i vostri capelli. Poi abbiamo quest'altra. Ok, qui abbiamo la bottiglietta. Che è rosa trasparente. Quindi mi sa che già ho capito quale abbiamo trovato. Però... È una rara, però non era tra le mie preferite. Comunque vabbè. Questa è la bottiglina trasparente. Magari cercherò di scambiarla per Witchy Baby, chissà. Allora, andiamo a vedere i nostri accessori. Qui c'è un fiocchetto glitterato fucsia. Poi abbiamo il vestitino. Che credo sia... Sì, sì, fucsia semplice, niente di particolare. Poi le scarpe. Eccole qua. E credo basta. Sì, penso, basta. Qui ovviamente possiamo mettere questa qui, qua sopra. E fa tipo spray per capelli. Non si può spingere, però insomma fa tipo spray per capelli. Eccolo. E la base va messa qua dentro. Così. E poi ce la mettete sopra. Allora, qua abbiamo la nostra nuova robottina. Cioè, è a robot, vedete? È un robottino tipo. Carina, mi piace questa... Questa mask, diciamo. Andiamo ad aprirla e vediamo chi è. Ah, eccola qua. Oh, carina però. Non sembrava così carina dalle immagini o dai video, insomma, che ho visto. Aspettate che andiamo a rivedere. Eccola qua. Abbiamo Glamour Queen che piange. Eccola qua. Allora, vedete che è fatta così. Andiamo a toglierle il vestito. E... Eccola qua. Carina, molto carina, devo dire. Allora, i capelli sono fatti glitterati bianchi. Cioè, panna, diciamo. Molto carina. Io volevo vedere però com'erano. Con i capelli, invece, ho trovato nella mia solita fortuna la rara. A prima botta. Vabbè. Ditemi se sono stata fortunata oppure no, secondo voi. Ehm... Comunque, eccola. Andiamo a vestirla. Aspettate che la vesto. Allora, eccola qua. Carina? È carina, devo dire. È molto, molto carina. Ha anche il fiocco qua dietro. E la collana, le ho messo. Sì, è carina e molto carina. Però fatemi sapere nei commenti che ne pensate anche voi. Ero curiosa di vedere com'erano con i capelli, ma sicuramente ne prenderò altre da aprire con voi. Quindi restate sintonizzati per le prossime aperture. Intanto ditemi che ne pensate, se vi piace e secondo voi se sono stata fortunata. E niente, come prima direi che è andata abbastanza bene, anche perché ho trovato una rara. Quindi penso, insomma, che sia andata abbastanza bene. Ma ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Il robottino glitterato mi piace tantissimo. È fatto veramente molto, molto bene. E niente, questo lo potete usare come filtro, appunto. Aspettate che non so come farvelo vedere, però... Vedete, è tipo scintillante. E niente, questo è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui nei commenti e se le acquisterete. Io penso di prenderne almeno un'altra per vedere come sono quelle con i capelli. E poi, in caso, proverò a scambiarle per avere la mia witchy babe, che è quella che vorrei di più nella collezione. E niente, questo è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale. E niente, ditemi tutto quello che ne pensate nei commenti e se vi piace quella che ho trovato. Noi ci vediamo presto. Vi mando un bacione, un salutone e alla prossima. Ciao!